A Verona, la gita a Verona, la prima volta che si è fatto l'amore era anche la prima volta per tutte e due si faceva l'amore. Te ricordi? No, io la prima volta lo feci coi Burgassi. Come i Burgassi? Quello della quinta D? Quinta F. Quinta F. E prima di te ci fu anche Lanini. Coi Lanini. Quello c'aveva il tic all'occhio, tic all'occhio. Quello che c'aveva il tic all'occhio, bravo. Ah, il tic all'occhio. Il Lanini. E poi mentre si stava insieme l'ho fatto anche col Ben Civegni. Ti ricordi quello che sembrava un albino? Angelina, tu ti ricordi un cazzo e poi ora tu mi tiri fuori tutta la formazione. Su. Non sono mai stata fedele. E mi sembra anche a me. Nemmeno dopo sposata. Sai che ho avuto una storia con il mio cognato? Ma che cos'è la fedeltà? Per essere fedeli basta dimenticare d'avere tradito. Forse è facile. Per essere fedele. Grazie per la visione!